Ma noi vogliamo sottolineare con il vostro aiuto, cari amici giornalisti, che ogni giorno ci sono dei piccoli passi in avanti importanti e significativi. Questo di oggi è l'ennesima dimostrazione che di fronte a un racconto in cui tutto è crisi, ogni giorno c'è qualcuno che realizzando un investimento sul futuro continua a dimostrare che il tempo dell'industria italiana, in questo caso dell'industria europea, non è il passato ma è il futuro. E da questo punto di vista un miliardo di investimenti, posti di lavoro, innovazione, sta anche la possibilità di dare un piccolo segnale di speranza, ma che è un segnale di speranza nel quale crediamo molto perché più sarà forte il ruolo di innovazione che le nostre aziende riusciranno a giocare, più sarà credibile l'Italia nel mercato globale e internazionale.